Oggi mi trucco coi trucchi demi zia! E si perchè ho fatto mamma no? No mi mancava giusto zia! E' venuta a trovarci per un paio di giorni E ovviamente gli ho fottuto la poscetta dei trucchi! Tra l'altro lei è una mia canetissima follower Quindi mi aspetto della bella roba qua dentro Interessante Vediamo che farci Lei se corregge le occhiaioni viola col correttore aranciato E lo fa ovviamente pure noi E già partiamo benissimo complimenti zia A fine video ve la faccio vedere perchè è una grande gnocca BB cream de Kiko questa mi piace in sacco Perchè per essere una BB cream è bella coprente Ora problema mia zia non ha la cipria C'è c'è la roba per contouring ma la cipria no vabbè E contourizzamose Ecco che succede quando non fissi la base con la cipria Che fa macchia il bronzer Come blush usiamo questo qua di Kiko Che sto favolosi usa perfino mi zia E come illuminante questa palette di essence Ammazza quanto brilla è proprio una sbuciona mi zia Ora parliamo di lui Che non so se è più una trashata o una genialata E' un gross Quando lo apri c'ha la luce dentro così puoi metterlo anche al buio Lei è mia zia Ciao Seguilo con G Ciao